Siamo a 90 chilometri da Wuhan, in Cina, e questo allevamento ha 26 piani e macellerà fino a 1.200.000 maiali l'anno, perché il secondo stabilimento è quasi ultimato e noi siamo riusciti a entrare. Abbiamo costruito a una media di un piano a settimana 5 piani al mese. Quando anche il secondo palazzo sarà ultimato, produrremo 1.200.000 maiali l'anno. Prevediamo di finire tutto entro il prossimo capodanno cinese. Non abbiamo badato a spese. L'intero investimento è costato mezzo miliardo di euro. Poi il direttore ci mostra l'interno, solo dallo schermo però, per scongiurare il rischio dei virus. Questa è la nostra sala di controllo. Ogni impostazione controlla un singolo piano. Da lì si possono modificare le impostazioni di temperatura, acqua o mangime di ogni stanza. Abbiamo puntato molto sull'automatizzazione del lavoro, vedete? Nel video c'è solo una persona, bastano quattro persone per piano. Che significa un lavoratore per quasi 6.000 maiali, che sono o chiusi in gabbia o nei recinti.